Cari amici telespettatori ben ritrovati con l'informazione di Molise TV oggi, mercoledì 18 maggio e come di consueto iniziamo il nostro appuntamento dedicato alla rassegna stampa, leggendo insieme le notizie del quotidiano online Tutto Molise. In risalto, rinviata la visita del premier Matteo Renzi prevista per ieri mattina a mezzogiorno al Teatro Savoia, a causa sembrerebbe il maltempo. Il governatore della regione Molise Paolo Di Laura Frattura ha illustrato tutti i punti previsti dal Masterplan. E poi tra i problemi che attanagliano il Molise si parla delle pensioni della regione, le più basse d'Italia. Il prossimo giovedì 19 maggio le tre sigle sindacali saranno a Roma per aprire un dialogo con il governo sulla riforma delle pensioni. Nel taglio basso, il Molise, tra le sette regioni con il 100% dei comuni a rischio idrogeologico, rilanciare l'agricoltura, la soluzione è proposta per avere un terreno più ricco e adatto ad assorbire le precipitazioni intense. Proseguiamo adesso il nostro appuntamento, leggendo insieme le notizie del quotidiano del Molise. In risalto anche in questo caso troviamo Renzi, i fondi ci sono, arrivo presto. Il presidente del Consiglio rinvia la firma del patto per il Molise a causa del maltempo. Ieri alle 10 è arrivata la notizia dell'annullamento dell'incontro con il premier Renzi, previsto per le 12 al Savoia di Campobasso, a causa del maltempo sull'Aquila, città dalla quale sarebbe dovuto arrivare l'elicottero di Stato con a bordo lo stesso premier. I tecnici che si occupano della sicurezza di Renzi non hanno dato l'autorizzazione. Il premier sono dispiaciuto, tornerò entro fine mese, frattura ha svelato i progetti per l'utilizzo dei 722 milioni di euro. Nel taglio alto oggi è il giorno della manifestazione in difesa della sanità, l'appuntamento è fissato alle 17.30 davanti alla chiesa di San Francesco, a piazza Municipio, i comizi conclusivi. Questo pomeriggio dunque la protesta per le vie di Campobasso e nessuna centrale biomasse sorgerà in contrada. Mascione del capoluogo di Regione, appunto l'amministrazione comunale di Palazzo San Giorgio, ha definitivamente sciolto ogni riserva. L'impianto tanto contestato non verrà mai realizzato, ascoltate tutte le parti interessate. Riccia ha soli 11 anni, sassofonista e talento nazionale, premio nazionale a Emanuele Ciocca. Ancora a Campobasso, a Neurisma della Horta, vite salvate in Cattolica, si pratica un'innovativa metodica. E venerdì sciopero della scuola, presidio unitario all'ufficio scolastico regionale. Passiamo adesso allo sport, serie D, lupi, gattari, affano per un'altra grande impresa. E poi l'iniziativa, over time, ha istituito il premio Vincenzo Cosco. Andiamo adesso avanti con le notizie di Primo Piano Molise. Anche in questo caso, in risalto, leggiamo del rinvio della visita di Renzi in Molise. Renzi salta il Molise, dunque la visita rinviata per il maltempo. Frattura intanto anticipa cosa c'è nel patto, dall'elettrificazione della ferrovia e al completamento della diga di Chiauci fino al collaudo dell'Iscione. Il meteo ha impedito al premier di volare e atterrare in sicurezza. Dall'Aquila però promette verrò presto. Nel taglio alto a Campobasso, in marcia per difendere gli ospedali, oggi la manifestazione è promossa dal Forum per la Sanità Pubblica. E poi il presidio davanti all'ufficio scolastico regionale. Venerdì si ferma il mondo dell'istruzione. Sciopero per il rinnovo del contratto bloccato da sette anni. Nel taglio laterale, termoli, trasporti urbani nel caos. Il 30 all'astenzione durerà 24 ore. Venafro, stop inceneritori, le mamme per la salute raccolgono le firme in centro. E le ultime frontiere alla fondazione, colpito da un aneurisma 83enne salvato alla cattolica grazie alla tecnica Nellix. E poi l'ex ministro passerà a Isernia. Con Melolli di nuovo sindaco, la città tornerà ai tempi d'oro. Il leader d'Italia Unica ha visitato il paleolitico. Poi l'incontro con i sostenitori. Nel taglio basso, ancora a Termoli, sale la protesta. Il comitato civico demolisce il tunnel. Progettualità oscena. Proseguiamo adesso con una notizia proveniente dall'Abruzzo, in particolare dalla zona di Vasto. controlli antidroga tra i banchi, blizza la media d'acquisto e al professionale di San Salvo. Vediamo adesso le notizie sportive. Verso la sfida verità, lupi, 600 biglietti per Fano. In città sale l'entusiasmo di Basquale, Grazioso e Corbo tornano ad allenarsi. E poi buone notizie. Isernia, Gioffre recupera Cantoro e Mingione per il Monticelli. Olimpia agnonese, delegazione granata ricevuta in regione, frattura rassicura sulla questione stadio. Continuiamo adesso il nostro appuntamento, leggendo insieme le notizie della Gazzetta del Molise. In risalto, leggiamo in prima pagina per l'appunto, dei fondi a pioggia resta solo la pioggia e Renzi ci salta. Quindi anche la Gazzetta del Molise tratta il tema del rinvio della visita molisana del Premier Renzi in maniera satirica. In questo caso continuiamo a leggere Ennesimo colpo a sorpresa per la ragione dopo il turismo all'area la manifestazione fissata al Savoia, scusa il maltempo. L'Oscar del giorno è stato assegnato ad Antonio Daimmo mentre il tapiro al presidente della regione Molise, Paolo Di Laura Frattura. Proseguiamo con la lettura delle pagine interne. A pagina 2 leggiamo Turismo nel Molise, ma di che parliamo? I critici di Renzi chiedono a Frattura perché la regione non ha un assessore al turismo, perché ha eliminato gli antiprovinciali per il turismo, perché non valorizza le proloco, perché non disciplina le agenzie di viaggi, perché non ha una legge quadro di settore, perché non cura l'elenco delle guide turistiche, perché non produce una pubblicistica turistica. Nel taglio basso la famiglia Daimmo ringrazia il Consiglio regionale. E poi a pagina 3, ancora al centro del Mirino, la mancata visita in Molise del Premier Renzi. Leggiamo, forse il Molise non esiste per davvero. Delusione tra i fans. Non vedevano l'ora che il ragazzo d'oro della politica italiana venisse a mettere i puntini sulle i tra coloro che avevano usato criticarlo per le sue parole sul Molise. Il Presidente del Consiglio dall'Aquila va direttamente a Bari senza passare per Campobasso. E ancora nel taglio basso l'intervento. Venitelli fotocopia della Fanelli si dimetta. Vediamo adesso insieme le notizie di Agenzia Stampa Molise. In risalto annullata la visita istituzionale del Premier Renzi in Molise sono rammaricato. E poi Regione, grande successo del Gran Gala Molisano 2016 a Montreale e realistici impegni per il prossimo futuro. Campobasso, il Comune dice no alla centrale a Biomasse di Contrada a Mascione. Sindacati, Scuola Molise. Il 20 maggio la scuola si ferma. Queste le nostre ragioni. E poi Isernia, una notizia di cronaca. Controlli dei carabinieri, eseguite denunce, perquisizioni e posti di blocco in varie zone della provincia Pentra. E moda e imprese è terminato il corso di formazione per gli ex dipendenti TR. E ancora Campobasso, una nuova metodica di ultimissima generazione per la cura dell'aneurisma della orta addominale alla Fondazione Giovanni Paolo II. Dai Quatinani locali passiamo a quelli nazionali. Vediamo insieme la prima pagina della Repubblica che titola con l'Unione Europea più flessibilità all'Italia. Ma nel 2017 servirà uno sforzo concesso un extra deficit da 26 miliardi. Ilva accuse dalla Corte Europea avvelenati i cittadini. E nel taglio basso Salvini e la prugna di Newton. Continuiamo adesso il nostro appuntamento. Leggiamo insieme le notizie del Fatto Quotidiano. In risalto nasce il giornale unico del Sì. Patto Verdini-Angelucci via Belpietro arriva a Feltri a sostenere la riforma. Dopo il Corriere è anche libero e il tempo passano correnzi. Nel taglio alto Gomorra, l'apparanza dei bambini Boss e Gas, la guerra del tubo, concessione scaduta. Andiamo adesso avanti con le notizie di Libero. In risalto un no contro il pericolo Renzi dopo essersi fatto la legge elettorale su misura. Il Premier vuole anche la Costituzione su misura per instaurare una dittatura democratica. Ecco perché è giusto votare contro anche da parte degli ex del Patto del Nazareno. Questo è il referendum decisivo. La Francia vuole silenziare la Le Pen. Nessun editore pubblica il suo libro, che eppure sarebbe un successo sicuro. Nel taglio basso il Cardinal Bagnasco fa il Papa. Che errore? Le unioni civili, l'utero in affitto. Sarà il colpo finale. Zero rimborsi, case a rischio. La Copp mette nei guai i soci. Drama avvarese per centinaia di persone. Proseguiamo adesso il nostro appuntamento, leggendo insieme le notizie della Gazzetta del Mezzogiorno. De Caro tra Renzi e Emiliano, grazie al suo pressing, i due siglano la tregua davanti ai panzerotti via al Patto per Bari. 230 milioni tra 15 giorni. Il Patto per la Puglia. Il Premier, grato alla Regione Puglia, superate le polemiche. Il Governatore, ritrovata la simpatia reciproca. E il va diritto alla salute. L'Italia sotto processo. La Corte Europea si è al ricorso di 182 cittadini. A Taranto, prima udienza. Flop, rinvio a giugno. L'accusa. Lo Stato non ha protetto la vita. E nel taglio alto, raffica Dimitra al San Paolo, arrestati in due a Bari. In Cella, Gaetano, Capo di Ferro e Vito Romito. Risolto dalla Guardia di Finanza, è il caso dello scorso gennaio. E altri 50 milioni di buco nei bilanci delle sud-est. Debiti con la Regione, rischio fallimento. La società deve restituire i fondi europei per alcuni progetti non realizzati. Nel taglio basso, Bagnasco. Colpo finale sarà l'utero in affitto. Il PD e Alfano, interpretazione errata. La CEI contro le unioni civili. Ci avviamo verso la conclusione. Vediamo insieme le notizie di avvenire. In risalto, l'utero in affitto e banco di prova. Bagnasco dopo le unioni sarebbe il colpo finale. Nella relazione del cardinale presidente all'Assemblea CEI, i temi del lavoro che non c'è, dell'azzardo che dilaga e della dentalità che pesa. E processo europeo per l'inquinamento dell'Ilva di Taranto, non tutelata la salute di 182 cittadini. E ancora flessibilità da 14 miliardi, ma conti da aggiustare. L'Unione Europea, sconto senza precedenti. Il Premier mi aspettavo di più. Stabilità più difficile. Passiamo adesso allo sport e vediamo insieme la prima pagina del Corriere dello Sport. Che titola Concell'Inter su Zeco. Pronto il piano nero-azzurro. Se Icardi sarà ceduto, spunta anche l'ipotesi di uno scambio più con Guaglio. Delle due punte con il club giallorosso. Mancini punta sul bosniaco con lui al City. Nel taglio alto Ventura vede Lippi-Garsia per il Milan via il Doppoconte. Il nuovo DT incontra il candidato CT. Panchina rossoniera in corse il francese Gianpaolo. E Juve attenta. Simeone vuole Cavani. Ancora Roma. Che colpa arriva di Avara? Il Bologna dice sì. Liverpool-Siviglia. Finale spettacolo. Continuiamo con lo sport e vediamo insieme le notizie della Gazzetta Sportiva. In risalto anche in questo caso Milan una panca per tre. Brocchi sbrocca. Gianpaolo Garzia Montella. Salgono le quotazioni dell'Exempoli. Scende il Samptoriano vicino alla conferma dopo la cena con Ferrero. Il francese semina indizi. Potrei allenare ancora in Italia più a nord. dall'attuale tecnico le aree della società scollegate tra loro. E nel taglio alto Calciopoli dieci anni dopo cos'è stato, cosa ha provocato, cosa ha insegnato il più grande scandalo nella storia del calcio italiano. E ancora inchiesta per i numeri Allegri e Doro, il Napoli Bello. E poi infine Berardi di Francesco. Juve la squadra giusta per lui. E con questo è veramente tutto. Grazie come sempre per l'attenzione. Vi lascio al meteo e vi auguro una buona giornata qui su Molise TV in nostra compagnia. Arrivederci. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV. E la famiglia torna a sorridere. Previsioni del tempo per martedì 17 maggio. Nuova giornata all'insegna della spiccata variabilità sul Molise, con un cielo irregolarmente nuvoloso ed addensamenti più consistenti nel primo pomeriggio, quando saranno più probabili dei rovesci localmente a carattere temporalesco. Tendenza ad aperture via via più ampie nel corso della serata. Ventilazione moderata dai quadranti settentrionali con mari generalmente poco mossi. Temperature stazionarie o al più in ulteriore lieve diminuzione. Vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 8, massima 13 gradi. Isernia minima 9, massima 14 gradi. Termoli, temperature comprese tra i 14 e i 16 gradi. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei. Acconsegni, assegni, spendi e risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV. E la famiglia torna a sorridere. Sa вход Joshi a tutti i consigli di risparmi di Molise TV. Spendie e risparmi di Molise TV. Non c'è risparmi di Molise TV. Inoltre cazolo. Paco. Chi nohh. fires propagandosi. pale bianco. Ma phải bitimovire. 17, hites e rinunce. Vediamo che inolce os 1700 km Non c'Allahi seract veggie non sport. Grazie a tutti.